Buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando, questo è l'ultimo incontro online prima del corso di formazione per volontari che inizierà il 2 maggio, quindi verranno resi disponibili i canali e le possibilità di iscriversi al corso e l'elenco appunto degli appuntamenti che saranno otto lezioni. In particolare fra queste lezioni, queste formazioni proprio per il volontariato nell'ambito della salute mentale, ci sarà quella del dottor Maone che oggi abbiamo il piacere di avere con noi e il dottor Maone è uno psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 1 e nel suo intervento parlerà in particolare del concetto di recovery. Oggi ci facciamo dare una piccola anticipazione soprattutto della sua esperienza nei servizi e appunto mi rivolgo al dottor Maone e le chiedo quali sono i bisogni delle persone che si rivolgono ai vostri servizi e perché il volontariato nell'ambito della salute mentale è un volontariato particolare, un po' diverso dal volontariato diciamo in generale. Grazie, le passo la parola. Grazie, buonasera a lei, buonasera a chi ci ascolta. Ma diciamo intanto partirei, cercherei di descrivere in maniera diciamo semplice e immediatamente comprensibile insomma, ovviamente semplificando un po', appunto dei bisogni a cui la risorsa del volontariato, quindi insomma questa importantissima componente insomma, potenzialmente dell'assistenza può avere un'utilità e un'utilizzo prezioso diciamo. Dobbiamo intanto dire questo che quando si parla di disturbi mentali ovviamente il termine è molto generico, comprende una infinità di situazioni che proprio tipicamente sono molto eterogene. Bisogna tener conto che, diciamo, nell'epoca in cui siamo, con la certa epoca post manicomiale, no? Cioè nella quale i problemi delle persone con disturbi mentali gravi, in particolare quelli gravi, veniva risolta in un modo molto semplice insomma, no? Cioè semplicemente diciamo, collocando queste persone in luoghi di residenza a tempo indeterminato dove praticamente scomparivano, diciamo, dalle comunità e quindi il problema da questo punto di vista non si poneva in tutta la drammaticità in cui lo vediamo in quest'epoca. Non perché fosse meno drammatico prima, ma perché, diciamo, rotto questo contenitore vengono fuori una serie di fenomeni che prima non si vedevano, no? Quindi questo, attiene agli ultimi quarant'anni in particolare in Italia, no? Quindi la domanda è, hm, chi sono queste queste persone? Quali sono le caratteristiche prima di tutto, no? Allora, noi diciamo che nel nel campo più generale di tutti i disturbi mentali gravi, diciamo, è ormai assodato che c'è una quota che potrebbe essere del 20 e del 30 per cento che eh a cui i servizi non riescono a dare una risposta adeguata. Ora, non per necessariamente per inefficienza o incapacità di servizi, ma per un altro motivo che cercherò di spiegare. Cioè, dopo, hm, siccome parliamo di situazioni che ehm né in maniera naturale, quindi secondo il corso naturale della malattia, come accade in molte altre malattie, no? Il corso naturale poi a un certo punto si risolve come per esempio per la per un'influenza o per altre malattie infettive, no? Nel campo ecco dei disturbi invece che diventano persistenti nel tempo e tendono a coincidere con tutto il ciclo vitale. Ecco questo eh il gli aspetti clinici quindi eh la diagnosi, il trattamento farmacologico, ecco questi aspetti più medici diciamo, tendono col passare degli anni a volte dei decenni dall'esordio che come sappiamo avviene in età giovanile insomma quindi nell'adolescenza o nella tarda adolescenza ehm e con questo tipo di disturbi ehm appunto non non ha più tanto a che fare diciamo con la medicina progressivamente in quanto emergono col passare del tempo ehm quello che possiamo definire l'intera vita della persona, cioè come una persona può avere un'autonomia, come dove, dove può essere eh collocata, dove può avere un un luogo di vita, eh dove può in che modo può avere un reddito, no? In quale attività produttive può riuscire ad esercitare nella comunità, no? Quindi diciamo ehm è in quest'ottica che va visto appunto l'intervento del volontariato e anche per questo il volontariato assolutamente e può essere prezioso, no? Proprio diciamo per questa sorta di perdita di specificità clinica che hanno questo la il corso della vita di queste persone nel corso del tempo, no? Quindi diciamo che ehm ehm appunto di mi sembra centrale che questo concetto dell'intera vita, no? Quindi eh dopo che una un paziente che ha avuto magari una prima fase acuta con ricoveri in ospedale poi magari è stato seguito dai centri di salute mentale, ambulatoriali, poi è stato magari inviato in una struttura residenziale per fare una riabilitazione e quindi poi poterne uscire, no? E quindi a a poter accedere a una condizione di vita indipendente. Ecco appunto in una percentuale significativa di casi questo diventa molto complicato. Anche perché col passare degli anni, col passare dei decenni, come dicevo, la la stessa famiglia diciamo diventa eh un supporto sempre più fragile perché proprio per la che per i motivi anagrafici, no? Man mano che i genitori diventano più e molto più anziani la persona diciamo si trova sempre più priva di supporti. Ecco quindi questo diciamo a differenza della disabilità motoria per esempio, no? Dove un certo tipo di un certo tipo di bisogni diciamo pratici, no? Il volontario può prestarsi in maniera probabilmente quasi sempre efficace, no? Rispondente alle alle necessità della persona e nel campo della della dei risultati mentali gravi questo può diventare un po' più complicato insomma, no? Perché eh perché la la persona può può per esempio avere una scarsa adesione, no? Può avere eh una scarsa consapevolezza, no? Della propria situazione. Ecco quindi mh ecco questo per questo motivo proprio diciamo la la il nel corso degli ultimi decenni ecco è stato sempre più chiaro che eh l'intervento in queste situazioni che si protraggono nel tempo ecco l'importanza delle diciamo di operatori non professionali quindi non necessariamente eh medici o o o infermieri per dire, no? Ma possono essere persone della così diciamo della che hanno che hanno un'esperienza di vita, no? Che hanno una una loro competenza eh personale e sociale, no? Indipendentemente dal 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 loro diciamo dal loro curriculum ecco possono essere più adatte da un certo punto di vista, no? A intervenire in queste situazioni rispetto al al agli addetti ai lavori insomma ecco. Ehm e questo questo processo eh sicuramente eh richiede una formazione richiede una formazione perché è importante comunque avere delle nozioni di base, sapere di che tipo di bisogni si tratta e quali sono proprio poi le attitudini specifiche per potersi rapportare e poter essere realmente di aiuto. Grazie dottor Maone e adesso passo la parola a una volontaria della fondazione Costanza che ci parlerà della sua esperienza e anche proprio delle attività pratiche che un volontario formato nell'ambito della salute mentale può fare. Prego Costanza. Buonasera a tutti e a tutte io sono Costanza e sono una volontaria da due anni qui in fondazione e in questi due anni ho avuto modo di frequentare diverse attività soprattutto quelle laboratoriali come quelle di musica, laboratorio di musica, laboratorio artistico, ne abbiamo fatto anche uno online quest'estate per stare un po' a passo con i tempi che tra l'altro ricevono anche dei buoni feedback sia dagli utenti che da noi insomma noi come aiutanti e in particolare diciamo sono dei laboratori che centrati sull'utente nel senso sono molto pratici e sono molto c'è in una cadenza settimanale più o meno tutti e appunto si svolgono per esempio si fa musicoterapia che comprende anche delle attività più riflessive centrate un po' sulla consapevolezza e quello artistico invece è stato molto è svolto è stato svolto soprattutto nella natura quindi andavamo in diversi luoghi di Roma a disegnare a pitturare. e poi vabbè quello online l'abbiamo fatto, il laboratorio online era un laboratorio di scrittura creativa quindi era molto incentrato sulla poesia, sull'intersezione di tutti i pensieri dei partecipanti e cosa dire, questi laboratori è un po' complicato spiegare a voce quello che sono stati per me perché innanzitutto io ho studiato per cinque anni questa, ho studiato cinque anni di psicologia e per la prima volta grazie a questi laboratori ho toccato con mano effettivamente tutto ciò che studiavo cosa che a me non sono riuscita a fare in università e ho conosciuto tante persone, tanti mondi nuovi e mondi diversi che mi hanno permesso anche a me di confrontarmi con delle realtà diverse e di mettermi in discussione erano tantissime persone e poi spesso le stesse persone frequentavano diversi laboratori e quindi ho avuto anche modo di conoscerle meglio e questo per me è stato sia importante per me per sapere come relazionarmi con loro e spero che comunque anche loro abbiano avuto uno straccio di vita in cui potersi relazionare in modo anche più sereno con qualcuno che poi alla fine è come loro e mi sono divertita tantissimo e è stato veramente, erano molto divertenti perché oltre, cioè io facevo parte, ero diciamo un utente e quindi era anche molto interessante fare ciò che facevano loro e secondo me, scusate, il volontariato è molto importante sia per me che studio psicologia sia per qualsiasi altra persona perché può aiutare a ridurre lo stigma anche che si ha nei confronti di queste persone che vengono spesso isolate e vengono isolate perché non si sa come rapportarsi, non si sa come relazionarsi con loro e questo è un modo anche per conoscerle e quindi per diminuire un po' la paura di ciò che non si conosce e quindi non è solo per chi studia psicologia come si potrebbe pensare e il volontariato, cioè almeno io pensavo che l'idea del volontariato fosse molto centrata sul dare all'altro mi sono accorta che in realtà più che dare all'altro sei te che ricevi dato che per esempio si fa un laboratorio con 20 persone e te sei una, cioè io sono una che ricevo da 20 persone mentre le altre ricevono da me, quindi io alla fine facendo anche un po' i calcoli ricevo 20 mondi diversi dando solo il mio, quindi alla fine è un grande punto in più a favore poi è molto interessante fare questi laboratori perché si fanno anche, magari a fine anno ci sono queste c'è la mostra del laboratorio artistico oppure c'è il concerto di fine anno di musica in cui siamo tutti insieme, tutti sul palco oppure tutti lì a mostrare le nostre opere d'arte e quindi è molto soddisfacente, acquisisci molta consapevolezza anche su alcune cose e anche molta formazione perché è mettere proprio le mani in pasta su quello che poi credo e spero sarà il mio futuro e che dire, poi adesso magari dico solo cose belle, ci saranno anche difetti in queste, anche dei limiti del fare volontariato, magari partendo dalla quella più superficiale della non retribuzione che si parla di retribuzione economica ma in realtà ciò che ricevi è molto altro ricchezza emotiva, felicità e divertimento oltre che esperienza ovviamente quella è sempre prima di tutto io sono appunto due anni come ho detto prima e diciamo auguro a tutti, scusate, di fare un'esperienza di questo tipo perché rende molto più aperti, rende più felice, io ogni volta che finisco il laboratorio sono sempre più serena più, ho voglia di parlare, vabbè sono più felice e niente credo che sia molto utile per me sentirmi anche un aiuto per qualcuno e ricevere aiuto da quel qualcun altro che sta lì al laboratorio e poi vabbè c'è tutta quella parte del, magari può essere un po' stressante, può essere un po' devi far caso all'organizzazione, non è semplice supportare questo tipo di persone ma non ci si pensa perché è talmente divertente anche che non ha valore, diciamo questa è un po' la mia esperienza che diciamo in pochi minuti è un po' difficile da raccontarvi però poi magari lo scoprirete anche voi grazie mille Costanza per la preziosa testimonianza e lo diciamo anche a chi ci sta ascoltando dopo il corso di formazione per i volontari è possibile partecipare proprio anche all'attività di volontariato della fondazione e ai vari laboratori proposti e anche esperienze nei servizi proprio con cui abbiamo delle convenzioni quindi vi anticipo che appunto nei prossimi giorni uscirà proprio il calendario con gli appuntamenti del corso di formazione che inizierà il 2 maggio e appunto potrete o scrivere adesso in chat richiesta proprio di essere contattati altrimenti scrivere un'email a segreteria pioccia fondazione di diegro.it o andare a visitare il nostro sito fondazione di diegro grazie a tutte e tutti e ci vediamo al corso buona serata grazie a tutti